A Pietralunga una targa scoperta oggi riporta in primo piano i temi della lotta partigiana all'impegno di chi ha scelto di rischiare per rendere l'Italia un paese migliore e ancora molto attuale il servizio di Gianni Sacchi Partigiani e militari, sensibilità politiche, culturali e religiose diverse ma un obiettivo unico ridare dignità e libertà al proprio paese per questo hanno combattuto e sono morti nel corso della guerra di liberazione per questo sono stati insegnati della medaglia d'oro al valor militare i loro nomi sono scritti sulla targa che è stata scoperta questa mattina nel corso di una cerimonia che si è svolta a Pietralunga sul luogo dove sorge il monumento regionale al partigiano a Pietralunga perché città simbolo della resistenza e unico comune della regione ad essere decorato con una medaglia di bronzo al valor militare l'iniziativa voluta dall'AMPI e realizzata in collaborazione con il comune di Pietralunga e la regione si è svolta in occasione del settantesimo anniversario dell'inizio della resistenza nel settembre del 1943 di quei fatti sono ancora testimoni 14 partigiani dopo la cerimonia al monumento ai partigiani c'è stato un convegno nella sala Sant'Agostino sulla resistenza e sulla guerra di liberazione tra gli altri è intervenuto Franceschi Innamorati, presidente provinciale dell'AMPI di Perugia grazie a tutti